Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vedremo il negozio delle sorelle Ago e Filo. Come sbloccare questo negozio? Molto semplice, il negozio in questione si sblocca giocando. Quando vedrete il porcospino sulla vostra isola e con la sua bancarella sarà disposta a vendervi dei vestiti, e la trovate qui praticamente, significa che da lì a una settimana massimo di gioco vi chiederà di aprire il suo negozio. Quindi dovrete decidere dove aprire il negozio e il giorno seguente avrete la possibilità di accedere al suo negozio. E adesso vedremo i suoi contenuti. Adesso l'abitante mi ha dato un regalino, praticamente un'emozione, ok? Entriamo nel negozio delle sorelle Ago e Filo, che è aperto dalle 9 della mattina alle 9 di sera, se non vado errato. Qui abbiamo il negozio, che ovviamente, come gli altri, quindi come il centro servizi, come il negozio di Mirko e Marco, eccetera, cambiano giornalmente, quindi avete la possibilità di acquistare questi completi che variano ogni giorno. Quindi avvicinatevi al completo che volete, diciamo, acquistare e cliccate su sì per aggiungerlo alla vostra collezione. Avete anche la possibilità di provare il vestito. Da qui potete, infatti, creare anche un completo personalizzato. Ora, effettuando la connessione a internet, a questo portale, dovreste avere la possibilità di creare il design. Infatti, adesso si sta effettuando l'accesso. Qui potete cercare un modello per ID o per stilista o caricare uno vostro, quindi potete sia scaricare, diciamo, i vestiti degli altri, sia caricare i vostri. Inoltre, potete anche, come vi ho anticipato, provare i completi prima di acquistarli. Quindi, tramite il camerino di prova potete, quindi, diciamo, provare i vari completi per decidere se acquistarli oppure no. Ovviamente, questi sono tutti i completi disponibili oggi. Quindi, diciamo, non ci sono tutti i completi esposti. Quindi, io vi consiglio di consultare anche questa interfaccia, oltre quella, perché avete, praticamente, la possibilità di ottenere completi differenti. Quindi, oltre quelli giornalieri, consultate anche il camerino, da dove potete anche provare i vestiti che comprate. Quindi, ricapitolando, dal negozio ogni giorno potete acquistare nuovi capi d'abbigliamento, che sono quelli esposti. Potete caricare un vostro, diciamo, design o scaricare quello altrui. Provare i completi prima di acquistarli e accedere all'intero catalogo. Il negozio in questione si sblocca giocando. Dopo che, diciamo, Penelope, o scusate, Agostina, avrà installato la sua bancarella nella piazza, dovete attendere qualche giorno per poter costruire il negozio. E dal giorno successivo sarà ufficialmente aperto. Se questo video vi è servito e vi è piaciuto, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.